ciao ragazze ciao a tutti bentornati sul canale oggi video per quanto riguarda i prodotti finiti corpo e capelli ho anche qualche integratore che ho messo qua in questo video qualcuno con cui mi sono trovata veramente bene volevo appunto farvelo vedere se interessa anche a voi oggi ho messo un rossetto dopo anni giusto per fare il video dopo anni no però vabbè da quando siamo a casa per questa quarantena e anche quel poco che si esce comunque sia la mascherina e rossetti si sfruttano pochissimo quindi continuo a guardarmi mi sento strana ragazze col rossetto comunque se vi piace è questo qua di kiko è un rossetto con l'applicatore così è praticamente nuovo l'avevo appena preso poi vabbè è iniziata questa cosa ed è il numero 04 la collezione water flower magic c'è scritto qua non so se riuscite a vederlo ed è bello e l'ho messo mezz'oretta fa e prima di fare il video non so la resistenza eccetera però è confortevole sulle labbra vi posso dire che è confortevole allora iniziamo subito ho tantissimi gel doccia e shampoo perché sto finendo le scorte avevo tantissime cose già iniziate lasciate lì cose abbandonate ho deciso prima di acquistare infatti faccio pochi video anche perché acquisto veramente poco ultimamente perché sto cercando di smaltire e parto subito a farvi vedere allora ho terminato questo qui che è un gel doccia della sien che si trova a lidl questa è della sien nature non mi è piaciuto non mi piaceva perché non troppo liquido come prodotto e non mi piaceva neanche tanto la profumazione molto lieve non mi ha fatto impazzire quindi ragazzi l'ho utilizzato per due tre docce poi siccome non mi piaceva l'ho messo nel sapone mani comunque questi non so neanche se ci sono ancora sinceramente perché so che da lidl ci sono delle dei prodotti edizione limitata e non so se questi si trovano ancora comunque anche se ci fosse io ve lo ricompro poi sempre usato più come sapone mani ho finito questo qua di avon anche questo è di avon natural un bagno doccia che ho qui da non so quanto che avevo qui da non so quanto alla ciliegia anche questo ragazze non mi è piaciuto perché ha una profumazione molto 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 lieve più consistente un gel più consistente quindi faceva più schiuma rispetto a quello di sien però anche questo siccome non mi soddisfava l'ho usato come sapone mani infatti non ho sapone mani nei finiti perché sto facendo così il bagno doccia e il gel doccia che non mi piacciono li metto nel sapone mani per non buttarli via poi stando sempre in tema lidl avevo preso anche questo qui alla camomilla un bagno doccia da ricetta biologica 100 per cento bio c'è scritto questo qua anche lui unì perché è molto molto liquido a me i prodotti così liquidi sinceramente non mi fanno impazzire perché fanno schiuma ma mi sembra una schiuma che scappa subito via non mi ha fatto impazzire neanche lui questo però l'ho usato nella vasca da bagno io ho la vasca da vasca doccia quindi l'ho utilizzato sia come bagno schiuma sia come gel doccia buono come prodotto nel senso la profumazione di camomilla così molto leggera non mi andava ad irritare la pelle non mi andava a seccar mele eccetera però ecco non lo ricomprerei perché comunque non è un prodotto che mi ha fatto impazzire lavava bene però nel senso anche se era liquido e facevo una schiuma che a me sembra meno consistente lavava comunque molto bene il corpo poi ne ho finiti tre di i brochet i brochet sapete sono tra i miei bagno doccia preferiti e sono questi tre allora questo qui è al pompelmo e timo mi piace tantissimo poi adesso che andiamo incontro alla stagione calda sarà uno che sicuramente riacquisterò frizzante agrumato ovviamente il timo io sinceramente non lo sentivo sentivo molto il pompelmo ma un pompelmo fresco probabilmente dato anche appunto dalla presenza del timo buonissimo in generale i brochet bagno doccia i brochet non mi danno irritazione non mi seccano la pelle né nulla buono davvero lo riacquisterò sicuramente poi ho finito questo qui alla passion fruit e ginger che cos'è lo zenzero giusto questo qua era un'edizione limitata che potevano avere solo le consigliere di bellezza o clienti privilegiate i brochet io avevo fatto un ordine e appunto l'ho fatto arrivare in edizione limitata anche questo mi è piaciuto molto buona la profumazione anche questa qui un po frizzantina però fruttata frizzantina però appunto essendo un'edizione limitata di quel periodo non è più in catalogo insomma nei prodotti permanenti comunque molto buono e poi un altro che trovo veramente ottimo ragazzi e poi questo è uno di quelli più profumati lavandina e mora che ha questo profumo un po un po cidulo anche non lo so come dirvi però mi piace tantissimo ed è un bagno doccia che mi resta di più il profumo sulla pelle dopo qualche ora insomma che ho fatto la doccia buono anche questo sicuramente lo riacquisterò poi come bagno schiuma sempre molto buono ho finito questo qua di erbolario lilla lilla questo l'avevo preso quando sono usciti gli sconti a gennaio di erbolario appunto gli acquisto tra virgolette sono in questi periodo sì magari può capitare che lo acquisto qualche bagno schiuma però siccome hanno un costo abbastanza elevato aspetto quando sono in appunto e sconto e ne prendo un po tra i vari che avevo preso c'è questo lilla lilla ovviamente un profumo molto fiorito molto buono pochissimo prodotto un bel gel consistente schiuma morbida e lascia anche il profumo proprio sulla pelle lo sento lo sento di questi qua di erbolario devo dire che sono veramente ottimi costano però sono davvero ottimi poi ho finito questo qua della linea intra detox spa questo ragazze è un nì nel senso che non mi faceva impazzire ovviamente come profumazione ma non stiamo parlando di un bagno schiuma barra bagno doccia profumato ma di un bagno doccia che pulisce a fondo la pelle quindi lo utilizzavo una o due volte la settimana non ha né granellini né nulla non è sfogliante né niente però ecco puliva molto a fondo la pelle una buona schiuma di questi biologici siccome hanno questa schiuma meno consistente rispetto diciamo i prodotti tradizionali vado ad usarne però tanto io di prodotto quindi non non so neanche tonificante sì cioè non so neanche non so se lo riacquisterò sinceramente perché non mi fanno impazzire ogni tanto voglio prendere qualcosa per provarlo proprio come tipologia di prodotto non mi fanno impazzire e niente comunque ecco se cercate qualcosa tonificante carbone zenzero magari per darvi tipo se andate in palestra se andremo in palestra se andrete quando sarà possibile magari ecco è un attimino più lava un pochino di più non so mi dà l'idea che disinfetta di più pulisce più a fondo poi magari sono tutte idee mie però questo effetto sentivo la pelle molto più pulita non lo so non cioè non molto più pulita sentivo che la puliva di più rispetto agli altri non so bene come spiegarvi questa sensazione quasi come se avesse ecco un effetto esfoliante senza fare un'esfoliazione non so se mi sono spiegata però va bene poi vediamo un attimino un bagno doccia basta sì ho finito allora parto con gli shampoo anche qua sono andata a finire tanto di quello che avevo negli armadi e vi faccio vedere allora tra i più vecchi ne avevo due di brochet questo qui tra l'altro ragazze che è quello alla mameli sindicato anche per i bambini non so da quanto cielo lì perché l'avevo preso quando mio figlio era piccolo fate conto che tra poco compirà 14 anni quindi non so da quanti anni era lì e questo qui invece che hanno shampoo brillance cos'è luminosità ecco a me gli shampoo di brochet non sono mai piaciuti tanto continuo a comprarli ancora nell'ultimo ordine ne ho fatti arrivare altri scusate stavo guardando che mi hanno portata un fazzolettino non lo trovano perché ho un pochino ce l'ho qua scusate ragazze ma siccome stanno volando i primi pioppi anche se adesso si è messo a piovere e niente io ho un pochino di allergia scusatemi ma devo per forza tamponare il naso allora dicevo gli shampoo di brochet insisto a comprarli insisto a provarli tutti soprattutto quando c'è qualche offerta magari legata ai vari trattamenti eccetera però non mi piacciono quasi mai questi non mi sono piaciuti né uno né l'altro questa aveva un'azione pulente molto molto blanda probabilmente va bene per chi ha i capelli e una cute molto secca e proprio per i bambini l'ho usato come sapone mani per finirlo anche gli shampoo si uso così e questo qua anche questo ragazze non mi piaceva nel senso che io con questa tipologia di shampoo di brochet il giorno dopo ho già i capelli sporchi tranne con quello proprio che è sgrassante per i capelli grassi con tutti gli altri devo lavare i capelli subito il giorno dopo io ho una cute piuttosto grassa e quindi niente hanno un'azione pulente troppo blanda per me è proprio un mio problema è perché come prodotto sento tante parlarne molto molto bene io avendo appunto la cute così grassa probabilmente sono più delicati e niente non vanno a rovinare le lunghezze però non mi vanno a pulire bene la cute quindi non mi sono piaciuti poi ho finito questo di sun silk sciolti e fluenti questo qua devo dire abbastanza buono ragazze perché comunque aveva un po sapeva un pochino di mela che non so neanche se la contiene sinceramente però era era un pochino acidulo ma queste profumazioni un po acidule mi sgrassano bene non lo so mi puliva bene il mio cuoio capelluto mi lasciava i capelli freschi riuscivo a tenerli due giorni che per me già è tanto e quindi mi è piaciuto mi è piaciuto molto soffici puliti ottimo può essere che loro acquisterò poi anche qua questi si trovano nei supermercati vado un po prendere le cose che sono in offerta solitamente non lo sto lì proprio non mi sono mai innamorata proprio di una marca anche questo non male però non è lo shampoo che andrei proprio a ricercare vi dico la verità poi ho finito questo di pantene questo qua era tre in uno uno shampoo volume anche questo molto buono perché con questo potevo anche non mettere il balsamo in quanto è comunque già col balsamo shampoo balsamo me li lasciava belli soffici faceva veramente un effetto volume profumati mi piacciono molto gli shampoo pantene perché lasciano molto profumo sui capelli così quando vi muovete lo sentite mi piace questa cosa comunque molto buono anche pantene ogni tanto lo riprendo e quindi sicuramente lo riacquisterò poi ecco uno invece tra i miei preferiti tra quelli di ultra dolce garnier che sono tra i miei preferiti in assoluto questo qua tè verde con le 5 piante benefiche è uno shampoo detox per capelli normali ottimo perché va a pulire bene la cute ma non va a seccare le lunghezze buonissimo un buon profumo fresco li tenevo due giorni tranquillamente potevo anche tenerli tre giorni con questo qua veramente ottimo questo ve lo consiglio poi ho finito questo olio straordinario elvive de l'oreal questo è uno shampoo buono nel senso che quando lavavo i capelli me li lasciava veramente belli ragazzi luminosi proprio più vedevo la luminosità e li vedevo come più nutriti però devo lavarli il giorno dopo è uno shampoo anche questo che non mi va a pulire a sufficienza la cute è per capelli da normali a secchi e dice capelli leggeri e pieni di vita li lascia veramente fantastici però niente non mi va a pulire a sufficienza la cute quindi per me ecco può essere uno shampoo da utilizzare in estate quando comunque io facendo la doccia tutti i giorni lavo i capelli tutti i giorni e quindi allora sì però ecco da utilizzare durante l'anno dove magari voglio fare lavarmi i capelli ogni due giorni insomma non va bene però se volete qualcosa che vi ridia un po di tono di lucentezza i capelli ve lo consiglio poi ho finito no shampoo ne ho ancora questo qua di fructix di garnier anche questa linea mi piace la linea fructis questo qua è uno shampoo fortificante fresh purifica e idrata i capelli allora non mi fa impazzire nel senso che non me li lascia belli come me li lascia magari elvive eccetera però me li pulisce bene e non mi va a seccare tantissimo le lunghezze anche se è un pochino sì però li trovo un pochino opachi i capelli quando utilizzo questo shampoo beh va bene ecco per chi ha i capelli comunque grassi poi ho finito un altro questo di bottega verde semi di lino illuminante e nutritivo anche questo lascia i capelli stupendi ragazzi è veramente stupendi si può utilizzare da solo anche se è solo uno shampoo da solo senza balsamo crema intendo perché li lascia veramente anche districati veramente stupendi però ecco anche qui non riesco a tenerli due giorni devo lavarli praticamente tutte le sere altrimenti mi alzo proprio qua una specie di ragno come lo chiamo io dove si vedono i capelli proprio che si dividono insomma sembra che non lavo i capelli da una settimana e li ho lavati il giorno prima e quindi per questo non mi fa impazzire non è lo shampoo perfetto per me però sui capelli sulle lunghezze li lascia bellissimi se avete appunto i capelli secchi ragazze ve lo straconsiglio soprattutto per la luminosità anche questo dà una luminosità pazzesca questa linea è veramente buona poi ho finito uno shampoo biologico sempre di intra sempre detox lo shampoo mi piace molto invece perché va a pulirmi bene mi secca un pochino vi devo dire la verità quando utilizzo questo faccio sempre la maschera dopo così almeno vado a ripristinare il secco che mi procura lo shampoo però lascia i capelli belli leggeri puliti ottimo con questo riesco anche due due sere a non lavarli e averli ancora belli composti quindi se avete appunto invece il problema di capelli grassi ve lo consiglio poi come maschera ho finito questa qua che l'avevo presa da jean louis david era una maschera alla cheratina questa era buonissima ragazze costava parecchio ma questa linea di jean louis david era ottima se la trovate ancora e volete provarla ve la consiglio perché adesso li hanno sostituite queste qua non ci sono più profumo buonissimo che per la che per essere cheratina i prodotti alla cheratina non sempre sono profumatissimi e mi lasciava i capelli bellissimi ma belli 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 quindi io usavo uno shampoo che mi sgrassava bene così la cute mi rimaneva pulita poi facevo questa maschera rimanevano belli per due tre giorni ero tranquilla però non la fanno più peccato poi vediamo un attimino come maschera ho finito anche questa che mi ha dato mi avevano regalato no è uno shampoo scusate non è una maschera della abuela penso che si prenda dai parrucchiere un prodotto comunque professionale però non mi hanno fatto impazzire perché mi appesanti cioè parlo al plurale perché ho anche la maschera pensavo di aver finito quella mi appesantiscono un pochino i capelli quindi va bene perché i capelli molto fini leggeri molto secchi io non li ho neanche molto secchi mi si sfibrano quando li lavo coi prodotti un pochino aggressivi però ecco va bene proprio perché i capelli molto molto secchi disidratati poi ho finito ecco vi faccio vedere uno shampoo colorato questo era il balsamo che era contenuto sapete che c'è sempre il balsamo la crema da mettere a fine a del colore insomma per ripristinare il capello l'ho preso in farmacia perché niente dovevo fare la tinta non riuscivo ad andare all'esserunga perché c'era un casino all'inizio della quarantena delle file interminabili andavo nei supermercatini vicino a casa quelli piccolini non avevano questi prodotti io di solito se mi capita di usarli che non faccio il colore della parrucchiera compro quelli di garnier di l'oreale eccetera allora niente ho provato a prendere questo della bioniche la marca allora devo dire che come shampoo veramente fantastico l'ho pagato 16 euro mi ricordo che è un po tantino però vabbè ragazze 0 c'è 0 puzza perché puzzano di solito questi prodotti e mi ha lasciato i capelli stupendi un po scuro per me questa colorazione che è un castano dorato è un po scurino adesso oramai si è si è sbiadito però ottimo ve lo straconsiglio poi questa mia durata per due o tre volte io ho anche i capelli corti buonissima anche questa ecco senza profumo è l'unico che io di solito quando faccio il colore sia dalla parrucchiera sia a casa poi migrato migrato un po i capelli per due o tre giorni migrato la testa perché probabilmente comunque la tinta è un pochino aggressiva anche quelle più naturali con queste no ragazze veramente fantastica infatti se lo farò io a casa prenderò ancora questo magari una colorazione un po più chiara perché mi erano diventati vedete adesso sembrano uguali però erano molto più scuri appena fatto poi scarica adesso già tre settimane e comunque i capelli bianchi si me ne sta uscendo qualcuno adesso quindi dura anche tanto poi per il corpo finito due creme o meglio una crema questa qua della del profumo today di avon che sono delle creme fluide molto molto buone profumatissime resiste tutto il giorno idrati un'idratazione leggera scusate però se cercate con prodotto da mettere vestirvi veloci e che vi sentite il profumo insomma ve le consiglio poi ho finito questo olio di brochet buono però è un olio quello con dentro le petali di rosa anche questo qua ragazze non so se era una cosa ad edizione limitata olio di argan e rose buonissima la profumazione qualcosa di spettacolare è un ticchioso è uno di quegli oli che non si assorbono mai anche se ne mettevo poco però buono lo mettevo alla sera poi mettevo il mio pigiamino mi impastavo un po tutta io pigiama eccetera però vabbè e il profumo lo sentivo parecchio è molto molto buono veloce se volete provarlo spero vi devono piacere gli oli pastosetti quelli che non si assorbono mai poi ho finito una crema mani di brochet anche questa non le finisco mai perché io uso le creme corpo anche sulle mani questa ce l'avevo al lavoro l'avevo poi portata a casa questa è al mango non mi piace tanto perché a me il profumo c'è la linea al mango di brochet non mi fa impazzire ma non mi fa impazzire la profumazione e quindi niente l'ho finita niente idratava bene se non è quella gran crema che ti ripara le mani screpolate eccetera una crema da mettere anche adesso che laviamo le mani 800 volte al giorno poi magari le dobbiamo utilizzare subito le mani per fare altre cose così non rimangono inticchiose poi come deodoranti sta venendo un video lunghissimo vorrei parlare veloce ma allora vi faccio vedere ho finito il solito di omia al aloe molto molto buono questo mi piace veramente tanto però faccio un po fatica a trovarlo adesso non riuscivo andare da tigota quindi li ho finiti e ho provato questi due allora questo qua di neutro roberts è senza zero sali d'alluminio quindi mi piaceva per questa cosa molto fresco molto buono appena messo però dopo un paio d'ore non mi piaceva più la profumazione che sentivo arrivare dalla cellina mettiamola così cambia cambia nelle ore almeno su di me cambiava non che io sudassi chissà cosa è però cambia un pochino quindi non mi è piaciuto tanto non lo riaccuserò poi ho preso questo ragazze deodorante no alcol 24 ore però ai sali d'alluminio sicuramente io sapete che non mi soffermo molto sull'inci dei prodotti si ce l'hai sali di alluminio anche nella prima riga questo mi è piaciuto tanto però devo dire che l'ho anche ricomprato profumo buono buono fresco e che rimane così per tutto il giorno è ottimo davvero l'ho appunto anche ricomprato come vi sto dicendo ne ho preso anche un altro di infasil verde se non sbaglio però non ho ancora incominciato questi qua buoni vorrei prenderli senza sali d'alluminio però se poi non fanno il loro dovere non lo so vabbè poi ho finito l'igiene intima i miei soliti tre di neutro roberts che sono i miei preferiti del momento che non mi seccano non mi irritano non mi bruciano piacciono a tutta la famiglia noi siamo in tre in particolare ci piace più di tutti quello il t3 che è antibatterico poi anche questo alla malva no calendula che è lenitivo molto buono anche lui hanno anche un buon profumo anche se vabbè non che gli serva chissà quale profumo però pulivano bene poi ragazzi ho finito questo antiche tradizioni questo l'avevo preso se non sbaglio da tigota anche questo qua un bel bogettino ho tenuto la scatola perché se lo volete comprare lo trovate così nella scatola se cercavate così non lo trovavate mai nella sua scatolina e buonissimo l'aloe vera fresco profumato non irrita non brucia né nulla e in più senza allergeni da profumo senza coloranti senza parabeni è sicuramente un prodotto con un inci più buono rispetto ai prodotti tradizionali ottimo anche questo anche questo quando mi capiterà di andare da tigota lo riprenderò poi vi faccio vedere questo qua che è un olio di 31 erbe che avevo preso dall'angelica a me piace ogni tanto fare il bagno nella mia vasca da bagno mettere qualche goccina d'olio essenziale le coccole in questo periodo ho potuto fare più bagni quindi ho finito anche il mio oglietto l'avevo trovato da acqua e sapone questo qua buono mi è piaciuto molto non ha nulla a che vedere con l'olio 31 della just che io ho sempre preso quello però essendo impossibilitata a prenderlo in questo periodo avevo preso questo qua però ecco non ha niente a che vedere anche una profumazione molto più blanda l'ho usato solo nella vasca da bagno ma mi è piaciuto mi sembrava che mi distendeva poi magari tutta una roba psicologica è comunque mettevo questo il bagno schiuma schiuma e gli essenziali è una coccola che mi piace poi ragazze vi faccio vedere tre integratori che ho finito cioè tra integratori no uno volevo farvi vedere questo che è lo sciroppo di agave che mi hanno consigliato da utilizzare invece dello zucchero anche al posto dello zucchero di canna che è molto più detetico che non contiene glutine non fa assolutamente ingrassare siccome ogni tanto mi allora più che altro tutto è nato vi spiego dall'inizio perché ho preso dei prodotti di juice plus non so se la conoscete quindi entri in questi gruppi dove ti spiegano come mangiare bene come mangiare sano eccetera perché ogni tanto parto con questa idea ma poi io non ce la faccio ragazze a seguire però tra le varie cose prendo degli spunti quindi questo sciroppo di agave è veramente buono perché non cambia il sapore alle cose lo mettevo anche nel caffè nelle tisane per esempio perché proprio senza zucchero non mi piacciono invece con un pochino di questo ottimo veramente buono 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 se volete provarlo ve lo consiglio ho preso poi appunto di juice plus ho preso tutte e tre le cose perché ci sono le bacche la frutta e la verdura che sono gli integratori per la forza la bellezza di unghie capelli queste qua in particolare drenano solo che queste le devo prendere al mattino mi ricordo sempre le altre a mezzogiorno alla sera non mi ricordo mai quindi non le ho finite e queste qua hanno effetto drenante devo dire di sì ragazze lo noto perché quando le prendo faccio più pipì se mi dimentico in alcuni giorni di prenderle noto la differenza sicuramente sono validi questi prodotti per quel poco di esperienza che ho io non ho provato i passi sostitutivi dovrei perché io dovrei anche dimagrire però poi so che non li seguo l'unica cosa che mi frena su queste cose è che ne devi comprare una valangata cioè una valangata no però devi comprare il set che ti dura per quattro mesi e comunque è un importo importante è una spesa importante quindi cosa ho fatto ho preso gli integratori perché volevo provarli e poi ho preso gli shake ho voluto prenderne uno del peso forma all'esse lunga ho detto così se qualche volta sostituisco il pasto uso quello lì però niente ragazze vi posso dire che a livello di pipì funzionano poi io sono quella che si mangia patatine brioche cioccolato quindi cioè non è che la cellulite mi può andar via prendendo un integratore mangiando male però sicuramente sul fatto pipì sì e anche sul fatto capelli e pelle mi sembra che mi è migliorata è fate conto che è un mesetto che che prendo queste cose qua e poi prima di iniziare quello lì avevo questo la betulla invece di erbolario che sono le goccine così che vanno messe appunto nell'acqua anche questo ragazze mi fa fare un sacco di pipì e costa relativamente molto meno credo adesso poi bisogna vedere anche quanto durano eccetera fare bene i calcoli che io non faccio io provo quando qualcosa mi ispira provo queste sono veramente ottime come 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 che si chiama come drenante anche loro l'unica cosa che sono sotto forma cioè c'è dell'alcol in queste gocce hanno un sapore veramente cattivo a me non piace proprio però vabbè con un pochino d'acqua si fa per per mandarle giù insomma ci si riesce preferisco delle capsule ecco per quello che poi ho voluto provare quelle lì però come effetto drenante ottimo anche questo e basta ragazzi ho finito finalmente 28 minuti di video spero di non avervi annoiato troppo e niente noi ci vediamo poi coi prossimi video più avanti ho acquistato qualcosina tra amazon ho acquistato anche da tezzini ma non mi arriva il pacco ho acquistato uno smalto ma non mi arriva da fare come semi permanente ma uno smalto peel off che volevo farvi poi vedere eccetera se arriveranno queste cose ve le farò vedere con dei prossimi video per il momento vi saluto vi mando un grosso bacio e vi auguro una buona settimana ciao